L'anfora della speranza in mostra nella piazza del Duomo di Pietrasanta, borgo toscano, terra di scultori per antonomasia. È l'ultimo lavoro dell'artista Camuno Alessandro Garatti, classe 83, in arte Algarco, che ha scelto il borgo degli scultori per vivere e lavorare, dividendosi così tra la Valle Camonica, dove vive la sua famiglia, e la Toscana. L'anfora è per così dire il suo brand del momento. L'anfora per lui è la metafora della vita, ma anche della forza che in ogni situazione della vita possiamo trovare. Infatti l'ultimo lavoro di Algarco è l'anfora ai tempi del coronavirus, una grande scultura in bronzo ossidato che prima di arrivare nella piazza di Pietrasanta, insieme alle opere di altri dieci artisti, è stata immersa in una vasca contenente acqua di mare e lasciata riposare per tutto il periodo del lockdown. Una scultura che simboleggia la speranza, la sopravvivenza, la vita e le ferite che in questo momento storico sta lasciando sulle persone. La mostra nella piazza del Duomo di Pietrasanta è stata inaugurata venerdì 19 marzo, resterà allestita fino al 23 maggio. È stata ideata, voluta e curata da Vincenzo Nobile, proprietario della galleria Nag Art Gallery e sostenuta dall'amministrazione comunale di Pietrasanta. Il suo intento è di far vivere, nonostante il periodo, il lato artistico della città con la speranza che presto si possa tornare alla normalità. 11 le opere disposte a cerchio al centro della piazza, un punto di osservazione speciale, una panca con un elemento al centro che dissuade i visitatori che possono comunque passeggiare fra le opere dal sedersi vicini come richiesto dalle norme anti-Covid. L'evento vuole sottolineare la difficoltà del momento ma anche rappresentare la speranza in un futuro più roseo. L'anfora ai tempi del coronavirus di Algarco è uno dei simboli più forti della speranza. Prima di arrivare in piazza, l'anfora dell'artista Camuno ha fatto un lungo viaggio dentro se stessa e dentro l'acqua, simbolo di purificazione e vita ed è rinata in mostra. Così dovrebbe fare ognuno di noi, trarre l'infa vitale dalla pandemia e dai lockdown per rigenerarsi e diventare speranza per il mondo? Di certo è che i messaggi di Algarco, se sono ermetici al contempo, sono molto profondi. I suoi lavori nascono da una profonda ricerca e anche l'elaborazione dell'anfora della speranza, documentata e seguita dal regista versigliese Tommaso Barbieri, sono sue le immagini che state vedendo, è frutto di un lungo lavoro e del pensiero di Algarco, un artista in cammino che nonostante si arresti o a parlarne ha già avuto numerose soddisfazioni come quella di esporre a fine 2019 una sua opera alla Biennale Sacra del Vaticano ospitata a Mentone. L'intima frattura al centro della sua ricerca artistica del momento era accanto ad opere di Bansky e Cristodi, De Champs e Menray. Il 2019 soprattutto è stato per il nostro giovane artista un anno particolarmente intenso che l'ha visto esporre a Palazzo Medici a Firenze, a Palazzo Zenobbio a Venezia, al Musa di Pietrasanta e nel Campanile di Pietrasanta, ma anche l'estate scorsa ha tenuto varie mostre. Il 2021 si è aperto con questa collettiva.